10 buoni motivi per fare formazione in modalità e-learning con Vega Formazione. 1. La docenza è professionale, come in presenza. Tutti i nostri corsi sono realizzati e registrati da docenti esperti che accompagnano il partecipante con il loro commento, audio o video registrati presso uno studio professionale per garantire la massima qualità e fruibilità. L'esperienza formativa diventa così simile a quella in presenza. 2. L'aula è virtuale. Il pratico sistema di chat online integrato, sempre attivo, consente ad ogni partecipante di interagire garantendo la massima efficacia dell'azione formativa. 3. La verifica di presenza e di attenzione è assicurata. La piattaforma di Vega Formazione prevede pop-up e domande a risposta multipla proposte casualmente durante la visione del corso, alle quali è necessario rispondere correttamente per poter proseguire nella visione. Niente video a spezzoni, né click ogni manciata di secondi. E se qualcosa non fosse chiaro? Non serve riguardare il filmato da capo. Con il pulsante Rewind puoi tornare indietro di 30 secondi e ascoltare nuovamente la spiegazione del docente. 4. Il materiale didattico è di qualità. Tutto il materiale didattico illustrato dai nostri docenti è disponibile sin dall'inizio del corso come documento PDF di alta qualità, impaginato e pronto per la stampa. 5. Sono previste prove intermedie. La verifica finale non è l'unico momento in cui mettere alla prova le conoscenze acquisite. I nostri corsi e-learning comprendono anche esercitazioni intermedie come occasioni per l'autovalutazione del partecipante e prepararlo per il test finale. 6. La verifica di apprendimento finale è disponibile alla fine della visione del corso. È un mix di domande estratte casualmente dal nostro database. E se non superi il test? Prima di sostenerlo nuovamente dovrai visionare i moduli didattici relativi agli argomenti per i quali è stata data una risposta errata. Le verifiche non sono un passaggio obbligato tra corso e attestato ma uno strumento per valutare la preparazione raggiunta a garanzia della serietà della formazione erogata. 7. Rilasciamo un attestato e un documento di avvenuta formazione, DAF, immediati. Appena superata con successo la verifica finale di apprendimento riceverai via mail l'attestato di partecipazione al corso e il documento di avvenuta formazione, con un rapporto dettagliato dell'attività formativa svolta. 8. Accedi alla tua area riservata. Per monitorare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento nel percorso formativo, compreso quello di ciascun partecipante per il quale è stata effettuata l'iscrizione da parte di un'azienda. 9. Hai un servizio tutor e un'assistenza tecnica ad hoc. Vega Formazione ti garantisce tutor esperti nelle materie oggetto dei corsi offerti per fornire risposte acquisiti inerenti agli argomenti trattati. Inoltre, è a tua completa disposizione un servizio di assistenza tecnica per risolvere qualsiasi problema riscontrato nella fruizione dei corsi. I tutor e i nostri tecnici sono contattabili sia via email che telefonicamente. 10. Vai dal carrello all'aula in pochi click. Se scegli di pagare con carta di credito all'iscrizione, riceverai subito le credenziali di accesso. In pochi click, login e password sono attivate ed i corsi immediatamente fruibili. Che ne dici di cominciare? Passa ora la formazione in modalità e-learning. Entra in Vega Formazione! Passa ora la formazione in modalità e-learning.